Niente da fare, non se ne esce. Ogni estate ce n'è una. O non ha piovuto, o non ha nevicato, o manca la pressione, o non hai l'autoclave. Di fatto, la carenza idrica è un problema strutturale, almeno in certe zone della città di Pescara. Persino quando di pioggia ne è caduta tanta e di neve ancora di più, l'ACA lancia l'allarme serbatoi e chiede lo stato di emergenza idrica. Possibile? Ieri, nella seduta della Commissione Controllo e Garanzia del Consiglio Comunale, convocata dal Presidente Piero Giampietro, c'è stata l'audizione del direttore tecnico di HSPA, Lorenzo Livello, il quale ha spiegato che l'azienda ha già chiesto a Regione ed Ersi di dichiarare lo stato di emergenza idrica, in quanto le sorgenti, nonostante le abbondanti nevicate dei mesi scorsi, non riuscirebbero a garantire la regolarità nella distribuzione di acqua. Il direttore tecnico ha anche spiegato che sono in corso interventi sulla rete nella zona di Bussi, proprio per attenuare gli effetti di questa situazione. Ma potrebbe non bastare e allora vai di autoclave. In realtà già dal mese di maggio molte famiglie di Pescara stanno soffrendo per la carenza idrica, specialmente in alcuni quartieri come l'ospedale San Giuseppe, Vene Marconi, i Colli. E ieri mattino in Commissione l'ACA ci ha detto che nonostante sia stato un inverno molto nevoso e molto piovoso, i serbatoi non riescono a garantire l'acqua nelle case dei pescaresi in alcuni casi, soprattutto nei piani più alti. Questo è chiaramente un problema perché Pescara ha già sofferto lo scorso anno di una gravissima carenza idrica che soprattutto in alcuni quartieri ha portato famiglie interi, migliaia di famiglie, a non riuscire a programmare neanche una doccia, una lavatrice, una semplice cosa tipo la lavastoviglie e quest'anno siamo a maggio, a giugno, siamo già in situazione molto critica e occorre assolutamente dare delle risposte. La risposta non può essere quella comparativi dato clave, non può essere assolutamente questa. Credo che ci siano due obiettivi, uno di medio periodo ovvero quello di mettere mano alle reti con la brodo, dopo tanti investimenti fatti e soprattutto anche dare delle indicazioni su come risparmiare l'acqua, però nel brevissimo periodo va ovviamente fatta un'azione forte perché le famiglie non possono restare senza acqua come lo scorso anno e quindi chiediamo al sindaco di convocare subito un tavolo con il prefetto e con l'ACA per capire che cosa si deve fare perché le famiglie non possono restare senza acqua né si può dire che chi non c'ha l'autoclave si deve arrangiare perché non può essere una risposta nel 2021.